L'azienda Clementi nasce ufficialmente nel 1975 dall'idea del fondatore Clementino Clementi. Le stesse idee che sarebbero diventate oggi l'oggetto principale della sua attività lavorativa, i forni a legna. Dalla fase di progettazione che mette sullo stesso piano l'uso delle tecnologie più avanzate con le aspettative dei clienti, fino alla valorizzazione dell'emozione e della semplicità d'uso dei nostri prodotti. Una costante passione che spinge la squadra Clementi a porre in primo piano il cliente e le sue necessità. Parlando con i nostri clienti abbiamo capito che facciamo parte della loro famiglia, perché dietro ogni momento di vita familiare c'è un prodotto Clementi. La continua attività di ricerca e sviluppo che viene svolta nel laboratorio Clementi ha permesso di realizzare prodotti di grande qualità, funzionalità e comfort. Nella prova il costante controllo qualità. I nostri prodotti hanno il nome di chi li ha pensati, progettati e creati. Ed è questo che Clementino Clementi tiene a ricordarci ogni giorno. La migliore garanzia per i nostri clienti è proprio lì, scritta e forgiata su ogni singolo prodotto che esce dalla fabbrica. Il nostro nome. Pulcinella. Fiore all'occhiello e il miglior forno per fare la pizza, un alimento dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Chi sceglie Clementi ama condividere e si sente parte di una comunità fisica e virtuale. Quella di Casa Clementi. Calore e divertimento è il significato di questa irripetibile esperienza. Per entrare nei bei ricordi delle famiglie che hanno acquistato Clementi. Da più di 40 anni offriamo alla clientela la qualità dei nostri prodotti 100% made in Italy.